Presidente Quercioli, dopo il primo incontro che feedback ha avuto di questa occasione che ha offerto di incontro con la politica locale? I nostri iscritti e osservatori sono stati molto contenti, hanno molto apprezzato l'iniziativa, hanno molto apprezzato la possibilità di vedere dei temi approfonditi ad ampio spettro, dalla politica industriale e territoriale fino al tema delle pensioni. E questo mi conforta molto perché vuol dire che stiamo rendendo un servizio utile ai nostri iscritti per potersi meglio orientare in questa campagna elettorale che a volte ha dei tratti un po' disorientanti. Via via durante gli interventi abbiamo sentito ricordarle quelle che sono le attività di Feder Manager, quindi per quanto riguarda le start-up, la managerialità al femminile. Possono arrivare anche degli spunti per altre idee future? Allora, io direi che stiamo in campagna elettorale e quindi chiaramente a parole, per ora possiamo vedere che nei due interventi ci sono delle ampie consonanze. Questo vuol dire anche che i temi che stiamo ponendo hanno una loro ragion d'essere, non sono così assurdi alla fin fine. E' chiaro che poi vorremmo monitorare, augurando a tutti i candidati il successo che si augurano, che si auspicano, ma per i candidati toscani che saranno eletti, noi poi chiederemo di riportarci in degli incontri, di concrete azioni legislative e normative che vorranno intraprendere per far sì che queste parole, diciamo, siano seguite da dei fatti concreti. Quindi per Feder Manager l'occasione è anche di creare questo collegamento con il futuro. E certo, è un fatto che ho già preso tutti i indirizzi mail, i telefoni, i biglietti da visita. E' pieno di biglietti da visita. Esatto, per andare in Parlamento faremo come striscia la notizia, andremo di fronte alle porte del Parlamento ad aspettare i nostri parlamentari a quel punto per chiedergli conto, diciamo, dei risultati rispetto alle parole che hanno spesso. Allora, questo incontro con Feder Manager per fare un po' il punto di quella che è la realtà toscana delle imprese. Siamo partiti dalle infrastrutture per arrivare a quelle che sono le necessità delle famiglie. Cosa porta a casa dopo questa esperienza? Una boccata di ossigeno e un po' anche di approfondimento. Perché, credetemi, campagna elettorale non è sempre così semplice poter avere un'ora e mezzo di approfondimento. Perché è ovvio, sono le regole del gioco. Insomma, è più facile fare iniziative un po' a teoreferenziali dove ci autoesaltiamo oppure confronti con avversari della campagna elettorale dove la dialettica, insomma, lascia poco spazio e approfondimento. Ogni tanto, invece, è assolutamente piacevole e istruttivo poter entrare negli argomenti con categorie, quindi con persone che su alcuni temi, evidentemente, hanno da dirci qualcosa. Perché credo il compito del politico sia, alla fine, prendere delle decisioni ma si cerca di sbagliare il meno possibile sulla base delle informazioni che si riesce a raccogliere e quindi avere la possibilità di potersi confrontare magari su un segmento di quello che è la nostra società però con figure che su quel segmento hanno certamente da dire qualcosa di importante è un arricchimento assolutamente prezioso e, ripeto, in campagna elettorale ogni tanto permette anche di tirare un po' il fiato e cercare di uscire un po' dalla retorica inevitabile, insomma, fisiologica della campagna elettorale e cercare di approfondire, di scavare un po' di più in profondità. Ecco, ci è sembrato di aver colto all'interno dei suoi interventi una sorta di messaggio agli elettori questo provare a cambiare, avere il coraggio di cambiare, guardare nei comuni dove Forza Italia è già presente quello che è accaduto per poter magari provare ad avvicinarsi a questo nuovo sistema. Io sono il coordinatore regionale di Forza Italia Antoscana, insomma, i miei colleghi coordinatori regionali di Forza Italia di altre regioni hanno un grande sentimento di solidarietà umane nei miei confronti perché questa è una terra che ovviamente per noi non è mai stata così semplice. Però negli ultimi anni Forza Italia Centrodestra ha vinto in tanti posti in Toscana e credo che questo comunque sia un arricchimento del sistema politico e democratico. Cioè, in democrazia, la benedizione della democrazia si chiama alternanza. L'alternanza è una virtù, è qualcosa di positivo a prescindere da chi poi ne trae beneficio, in questo caso noi, perché è evidente che in questo territorio storicamente è la sinistra che ha governato quasi ininterrottamente ovunque. L'alternanza permette di liberare anche energie perché permette un ricambio della classe dirigente. Fa bene anche la sinistra, fa bene anche la sinistra toscana che l'abitudine a governare senza al pungolo di rischiare di essere mandata a casa ovviamente produce un rilassamento e quindi anche un'azione politica che è certamente peggiore rispetto a quella della sinistra che già avversavamo di qualche anno fa. Quindi credo che sia anche un compito nell'interesse di tutti, anche di coloro che andiamo a sconfiggere laddove a Pistoia, a Grosseto, a D'Arezzo abbiamo vinto le elezioni. E il messaggio da dare ai cittadini toscani è di votare sulla base dei programmi, della credibilità dei candidati e anche delle esperienze nei comuni amministrati dal centro-destra piuttosto che quelli amministrati dal centro-sinistra superando dei blocchi ideologici che francamente nel 2018 non hanno più senso di esistere. Allora, che esperienza è stata questo incontro con i manager a FEDER Manager? Un'esperienza estremamente piacevole perché è stata occasione non solo per ascoltare e approfondire le tematiche legate a questa categoria e agli appartenenti a questa associazione che so rappresentare molti affiliati su tutto il territorio nazionale. Ma soprattutto, come sempre, mi sta capitando un'occasione di arricchimento umano e anche politico perché comunque la politica vuol dire conoscere i problemi delle persone che nei diversi settori della società si impegnano e hanno bisogno di risposte. Gli imprenditori toscani potranno essere utili un domani per quello che sarà anche il contributo che potranno dare dal territorio alle nuove leggi del Senato? Invertirei il ragionamento. Forse dovrebbero essere coloro che si propongono in termini di rappresentazione di un territorio così ampio comunque del collegio in cui io sono candidato o comunque di tutta la Toscana e quindi come parlamentare e come movimento politico a poter rappresentare le istanze. Certamente, come dicevo prima, credo che con molta umiltà chi si propone di farlo deve ascoltare prima quali sono le esigenze e anche i suggerimenti di chi appartiene a una categoria. Se il politico si volesse confortare di se stesso e della sua onniscienza penso che sbaglierebbe proprio l'approccio.